ciao a tutti ragazzi io sono pitbull e oggi sono su splinter cell blacklist vi parlerò un po del singolo e anche un po del multi un po del menu allora partiamo con il single player nel single player voi potete fare delle serie di uccisioni che secondo me sono spettacolari questa potete fare l'uccisione quali che ha tirato il nemico potete scegliere se farla o non letale o come ho scelto io adesso di farla letale prendete il nemico letale l'uccidete appunto il nemico muore basta buonanotte al secchio poi dopo di che voi potete fare quella non letale voi tipo vi avvicinate a un muro spegnete le luci in modo da attirare il nemico o potete attirarlo fischiando di amico vieni qua lui arriva verso di voi sempre con molta calma i nemici si avvicinano verso di voi si sbattono proprio le palle appena sarà portato il tiro potrete tramortirlo e guadagnare un bonus questo bonus a cosa serve che voi vi avvicinate al nemici il più possibile segnalate i nemici uscirà sulla testa un baffo rosso come potete vedere ecco baffo rosso baffo rosso baffo rosso premendo la y uccidete i nemici in successione in modo tale da farli fuori tutti e senza allertare nessuno senza farvi rompere le scatole in generale dagli altri poi c'è l'uccisione questa qua voi vi appendete la finestra chiamate come vi ho fatto vedere prima il nemico alla finestra lui si avvicinerà voi lo prendete per la testa e succhia baby è morto andato poi cos'altro dirvi potete fare il rifornimento attaccarvi alle corde scivolare giù e fare delle esecuzioni dall'alto queste esecuzioni voi le potete fare anche se siete attaccati a un muretto non c'è bisogno per forza di essere attaccato una corda a un muretto vi avvicinate siete sotto il nemico e saltate addosso poi potete prendere e nascondere i cadaveri buttandoli giù dal balconi o come vi farò vedere adesso potete prenderli e metterli dentro dei cos'è cazzo è questo un fottuto cesto da biancheria non lo so vabbè poi potrete guardare da sotto le porte e individuare i nemici in modo tale da potergli arrivare piano piano senza troppa fretta perché sennò vi possono sentire alle spalle e tramortirli senza comunque si allertare gli altri nemici in giro nel gioco ci saranno degli obiettivi bonus che sono chiamati vip voi questi vip dovete prenderli tramortirli prenderli in ostaggio e poi schiacciando un tasso li catturate in modo tale che avrete dei punti bonus e guadagnerete più soldi poi l'altra figata che c'è nel gioco sono i cani ragazzi i cani sono una cosa fenomenale bellissimi i cani basta che vi sentono sentono di fiutano e allertano tutti però ci sono vari modi per distrarre il cane tipo io lancio come faccio vedere qua vi lancio un un coso sonoro un gadget sonoro il cane va verso il gadget io sfrutto la pozza con la pistola elettrica e lo tramortisco e qui ci sono le varie esecuzioni dopodiché c'è questa qua che è fighissima voi buttate in scivolata con la b buttata all'aria il nemico e lo tramortite e lui se ne va a fanculo così senza allertare nessuno poi sulla nave voi avrete tipo questo aereo qua gigante che potete personalizzare potenziare solo usando la tipa voi andate dalla tipa sull'aereo e potete potenziare l'aereo tramite lei potenziare l'aereo vi permetterà di avere gadget in più invece il tipo di colore vi farà vedere le statistiche semplicemente le statistiche di gioco e progresso e tutte queste cose qua e premetto che ogni personaggio come potete vedere vi fa fare delle missioni però o le potete andare a fare da loro e vi daranno delle missioni random o come vi farò vedere dopo andando nella mappa nella mappa centrale potete scegliere voi quale questo ragazzino qua è fighissimo per questo ragazzino qua all'inizio del gioco a parte che lui vi mette a posto le dotazioni però all'inizio del gioco questo ragazzino qua fa una domanda a Sam che Sam parla di sua figlia e questo ragazzino gli fa una domanda dice ma tua figlia ancora single quello che ho detto io è ma sei scemo chiedi queste cose a Sam che quello ti taglia la gola e ti ammazza vabbè lasciamo stare questa è la mappa che vi dicevo io all'inizio allora qua potete quello in rosso sono la storia principale quelle in blu sono le missioni secondarie che vi chiedono i vari personaggi qua potete scegliere quale volete fare se invece andate da loro loro vi faranno fare quelle che dicono loro invece quasi li avete libera scelta le missioni potete leggere chi ve le fa fare se sono in cop o singole poi se potete vedere sempre da questa mappa potete scegliere il multiplayer il multiplayer ci sono svariate modalità solo che le potete sbloccare tutte dal livello 5 in poi finché non arrivate al livello 5 non potete sbloccarle tutte ne avrete solo qualcuna e ragazzi io con questo ho concluso il video spero vi sia piaciuto di vi sia utile che dirvi alla prossima ragazzi